Sono in compagnia di Valerio Landri, direttore della Caritas Diocesane di Agrigento. Valerio, quest'anno il 25 novembre l'Arcidiocesi di Agrigento, oltre all'Assemblea Diocesana con la consegna del piano pastorale diocesano alle comunità da parte dell'Arcivescovo, sarà celebrata anche la giornata mondiale del povero a livello diocesano, una giornata voluta dal Papa per rimettere i poveri al centro dell'azione della Chiesa. Sì, è una coincidenza fortemente voluta. Sappiamo che il 19 di novembre, quindi la domenica che precede, adesso la domenica di Cristo Re, quindi la chiusura dell'anno pastorale, il Santo Padre ha voluto dedicarla, e questo avverrà per sempre ormai, da qui per l'avvenire, ai poveri. Vuole Papa Francesco che la Chiesa tutta si fermi a riflettere sulla centralità da dare al povero nella vita ecclesiale, cosa che purtroppo non sempre ancora avviene. La programmazione di un'Assemblea Diocesana, che è il momento dell'incontro della comunità tutta con il proprio Arcivescovo, viene fatta coincidere con questa giornata mondiale. Abbiamo quindi voluto che la nostra giornata mondiale, che sicuramente sarà celebrata anche il 19, questa è l'indicazione che diamo alle parrocchie, si protragga per una settimana intera e abbia il suo culmine durante l'Assemblea Diocesana, quando verrà presentato, come si diceva, il piano pastorale, che ha come tema proprio l'abitare la comunità. Ed è esattamente il senso della giornata mondiale dei poveri. La nostra Chiesa quest'anno sarà invitata a frequentare le piazze, le strade, così come Gesù fece quando arrivò sull'altra riva del lago di Genesaret e cominciò a girare per le strade di Genesaret e lì venivano portati gli ammalati, le persone più fragili, quelle che avevano bisogno di essere rimesse in relazione con il Signore e con la comunità intera. Bene, l'abitare la comunità per noi significa vivere per tutto un anno il senso della giornata mondiale dei poveri, che significa farci prossimi a chi vive esperienze di fragilità, significa creare relazione, significa vivere, rimpostare la nostra attività pastorale proprio in questa logica, la logica dell'andare incontro, del frequentare le piazze, frequentare le strade ed essere l'elemento di connessione fra chi vive l'esperienza della marginalità e del Signore Gesù che torna ogni giorno per salvarci. Il Papa nel suo messaggio scrive che i poveri per la Chiesa non sono un problema, sono un'opportunità. Sì, i poveri sono quelli che ci richiamano ogni giorno a una coerenza evangelica, a volte possono sembrare un fastidio perché comunque ci pongono un problema, ci pongono davanti la necessità della condivisione, della condivisione del tempo, dell'attenzione, oltre che chiaramente di una condivisione economica. Eppure sono forse proprio coloro i quali ci permettono di costantemente mettere in pratica la fede che celebriamo. Perché una fede che è celebrata liturgicamente, ma che non viene poi tradotta in gesti concreti di prossimità, nei confronti del Signore che si fa povero fra i poveri, è una fede vissuta solamente a metà. E il tema proprio del messaggio è proprio questo, sono le parole dell'Apostolo, amiamo non a parole ma con i fatti. Sì, amiamo non a parole ma con i fatti, questo è un invito chiaro, importante, anche sarà un'occasione importante per comprendere il senso della Caritas all'interno di questa Chiesa. A volte si pensa che la Caritas abbia il ruolo di risolvere i problemi della comunità, in realtà la Caritas è stata pensata per crearli problemi alla comunità, per fare in modo che ci si accorga dei problemi della gente e che sia la comunità intera ad adoperarsi per risolverli. Per usare un termine a voi caro, è la funzione pedagogica che la Caritas deve assolvere all'interno di ogni comunità? Per questo è stata voluta e pensata nel 1971, per una funzione assolutamente pedagogica nei confronti della comunità. La Caritas non è un'associazione di volontariato che si occupa delle fragilità dell'umano, in qualche modo de-responsabilizzando la comunità, ma è quell'organismo che all'interno della Chiesa tutta ha il compito di animare all'esercizio della carità tutti i fedeli. So che come Caritas, come Dipartimento Pastorale, sono state date delle indicazioni per vivere questa giornata. Sì, abbiamo inviato a tutte le comunità una lettera che peraltro è anche scaricabile sui nostri mezzi di comunicazione e nella quale proviamo a far comprendere il senso profondo che sta dietro a questa giornata, che non è una giornata una tantum in cui ci ricordiamo del povero per poi dimenticarlo il giorno dopo, ma è la giornata di un impegno che proviamo a portare avanti per tutto un anno. E insieme agli altri uffici del Dipartimento Pastorale abbiamo voluto dare delle indicazioni che possano essere degli stimoli più che altro alle comunità per vivere questa giornata come una giornata dell'impegno anche per il futuro. Pensiamo per esempio ai suggerimenti dati per i Cresimandi, che possano adottare un'esperienza di fragilità come esperienza di chi li accompagna durante il loro cammino di formazione, alle famiglie, perché si aprano all'accoglienza e al sostegno di famiglie più in difficoltà, ma anche degli orientamenti, dei suggerimenti per i gruppi liturgici e così via. Chiaramente sono degli spunti, perché siamo convinti che le nostre comunità sono fantasiose, sapranno sicuramente, se si fermeranno a riflettere su come vivere al meglio questa giornata e questo impegno, sapranno sicuramente generare delle esperienze di carità significative. La carità di Roma l'altro giorno ha presentato il proprio rapporto, ieri a venire titolava, mettendo in risalto, la povertà della città di Roma e di come tra i poveri ci siano gli italiani, ci siano le nostre famiglie. Dal tuo osservatorio, dal vostro osservatorio, la città di Agrigento, come è messa? La diocesi agrigentina rispecchia i dati generali a livello nazionale. Probabilmente, anzi, addirittura le percentuali di italiani che sono sostenuti nel nostro territorio sono ancora più alte in proporzione ai migranti e alla popolazione migrante presente sul nostro territorio sono ancora più elevate rispetto al dato nazionale. Quindi la maggior parte, diciamo che il 70% dei nostri interventi è a favore delle famiglie italiane che vivono in una situazione di gravissima marginalità. Ma rifletteremo anche nei prossimi giorni, il giorno 17 a Roma, ma ne rifletteremo in maniera specifica su quanto oggi debbano essere considerati poveri i nostri giovani che mancano di prospettive. Tantissimi sono i ragazzi che non cercano neanche più un lavoro, tantissimi ancora sono quelli che continuano a lasciare la nostra terra rendendola sempre più povera e fragile. Quindi gli italiani sono sempre più poveri e questo è vero. La Chiesa è vicina, è vicina all'uomo a prescindere dalla sua provenienza. Proviamo a dare le risposte che riusciamo, ma quello che emerge con forza è che la più grande povertà che oggi esiste è quella delle relazioni. Le nostre comunità devono riscoprire il senso della comunità, il senso della condivisione, il senso della solidarietà, perché tante fragilità potrebbero essere evitate o potrebbero essere notevolmente ridotte se all'interno delle nostre comunità parrocchiali si vivesse maggiormente la dimensione della fraternità e della condivisione. C'è un sogno che il direttore della Caritas ha per la nostra Chiesa? Non ho altri sogni se non il Vangelo da questo punto di vista, nel senso che mi piacerebbe che le nostre comunità, come già in parte stanno iniziando a fare, certamente non dobbiamo negare il bello che già c'è nelle nostre comunità, mi piacerebbe che le nostre comunità si sforzassero sempre di più di vivere l'appello evangelico che oggi viene rimbalzato con maggiore intensità anche dalle parole del nostro Papa Francesco e del nostro Vescovo Franco. Vivere la dimensione della fede in un'ottica di relazione, in un'ottica più sociale, più di impegno concreto, è importante sicuramente la dimensione liturgica, è importantissima la dimensione alla quale siamo proprio abituati, quindi la dimensione del Tempio, ma è ancora più importante probabilmente vivere una fede che sia incarnata nella vita di ogni giorno.